Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Perché da quando mi hanno inestrato quelle macerie è iniziata la mia lotta per sopravvivere Io me ne ho accudito come un bimbo di sei mesi Non potevo permettermi nemmeno di piagere per le persone che non c'erano più, per i miei figli, per mia moglie Perché non me lo posso permettere Il pensiero era io voglio tornare alla mia vita e voglio tornare a mio figlio Leonardo Il nostro corso gratuito è un bel ciò gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie.